Il prossimo talk, anzi, i prossimi due potenziali talk vedono due relatori. Abbiamo Alessandro Elmuth Pedron e Francesco Amadeo, che stanno arrivando, giusto? Io vedo, siete voi? Anche in questo caso diamo un po' di tempo alla regia per precaricare le slide. Alessandro e Francesco sono di PVC, hanno due talk, il cui titolo è abstract in inglese, ma il talk è in italiano. Come siamo messi con la musica ansiogena? Un po' di ansia ci vuole. Solo che qua con le votazioni, se dovesse succedere la stessa cosa che è successa prima, 50 e 50, abbiamo due microfoni, possono fare il talk in contemporanea e ognuno potrà ascoltare il talk che gli interessa. Non fatevi ingannare dalla posizione perché è un attimo che uno va sopra. Però mi sembra abbastanza netta in questo caso il risultato. Direi che possiamo anche chiudere il televoto. Allora, il vostro gelato lo trovate lì, insieme... Non so se ce ne siano altri... Perfetto. È acceso? Va va, ci siamo. Ciao a tutti. Piacere. Questa è... Ah, benissimo. Questa è la nostra prima volta qui alla Kimbo. Funziona? Ok. Lo speech che avete scelto è relativo a una tematica abbastanza recente. La presentazione riguarderà una delle ultime vulnerabilità che nell'ultimo anno è stata un po' una buzzword in ambito Active Directory e pen testing interno. Durante questo speech mostriamo anche una piccola demo live di un ambiente in cui abbiamo predisposto la vulnerabilità che sarà un po' il core di questa nostra breve chiacchierata. Se invece non dovessi andare per il solito effetto demo abbiamo delle slide di backup, quindi qualcosa guardiamo insomma. Ok, quindi durante questa nostra breve presentazione partiremo raccontandovi una storia che parla di un threat actor che negli ultimi anni ha portato un po' di scompiglio verso diverse aziende nel mondo, una storia di ransomware. E poi mostreremo praticamente come in uno degli ultimi progetti che abbiamo svolto, in uno degli ultimi internal pen test, siamo riusciti a sfruttare una vulnerabilità molto comune all'interno degli ambienti, dell'internal network che stiamo testando e che risulta essere ancora molto presente, è poco controllata, poco monitorata la tua defense, la tua SOC. Vai? Yes? Vai. Quindi i tre obiettivi del nostro speech saranno come ci siamo detti, dimostrare come diventare domain controller e quanto può essere facile farlo. E in un ambiente anche monitorato dal SOC e nonostante tutto non essere individuati dopo che la compromissione è avvenuta, dopo che abbiamo attuato attività di persistence, quindi dopo che ci siamo anche banalmente aggiunti al gruppo dei domain admin e fare tutto questo in pochi minuti. Qui un po' la provocazione sono i dieci minuti, ma che effettivamente è quanto serve per poter poter termine l'attacco. E quindi quali possono essere anche le remediation a questo e quali devono essere le action da parte delle aziende, dalla parte difensiva, per potersi proteggere da questi tipi di attacchi. Ok, quindi proviamo a cominciare con una storia. Non so quanti di voi conoscono bene o male Arrivil. Qualcuno c'è? Ottimo. Arrivil, diciamo, è una cyber gang, si può chiamare così per l'attività che fanno, che principalmente si è occupata negli anni di ransomware. È una cyber gang che ha iniziato come gang crab. Io non sono un threat actor, non siamo neanche threat hunter, però diciamo che tramite i rumor e le analisi fatte sui software di questo gruppo sono riusciti a stabilire un'identità a questo threat actor, principalmente russo. Infatti come molti degli attaccanti che provengono da quelle zone hanno per esempio dei controlli all'interno dei loro software che evitano di targettare quelli che sono i computer con una localizzazione in cirillico, per esempio. Questo gruppo ha cominciato come threat actor specializzato in big hunting, quindi fondamentalmente un attacco, un big payout e via il prossimo. Che cosa hanno pensato a un certo punto? Io immagino che più o meno sia stato questo il loro pensiero. sono stati attenti al business perché hanno detto noi siamo molto forti nella parte di escalation, nella parte di esecuzione del ransomware. Quello che ci manca probabilmente è forza lavoro per arrivare nelle aziende. E quindi si sono evoluti. Si sono evoluti e hanno pensato di spostarsi sul modello di business del SaaS. Quindi sono diventati un po' dei SaaS provider. Questo cosa gli ha permesso di fare? Gli ha permesso di aumentare il numero di attacchi che riuscivano a portare a termine, riuscendo a dare lavoro ad altri black hat che facessero il primo accesso alle aziende e che poi gli dessero le chiavi di modo che loro potessero portare a termine l'attacco e dare una percentuale dell'eventale guadagno al gruppo di black hat che li ha portati dentro. Ma come funziona, diciamo, a grandi linee tecnicamente una storia di un attacco ransomware vista dal punto di vista dell'attaccante? Gli step sono questi. Quindi abbiamo sicuramente un primo accesso a questo punto subappaltato, diciamo, ad un altro gruppo di hacker. Abbiamo l'escalation sul dominio a domain admin. Abbiamo tipicamente avevamo l'individuazione di backup, la loro compromissione di istruzione e successivamente grazie ai privilegi di domain admin per esempio un deploy di uno schedule e task su tutte le macchine che andasse a cifrare effettivamente i dati e facesse partire poi tutta la parte di pagamento. Detto questo per fortuna ci applichiamo tutti quanti tutti i giorni per evitare che succeda, no? Quindi abbiamo tutti quanti SOC, no? Abbiamo delle sorgenti di log, abbiamo IDR, abbiamo XDR, abbiamo l'antivirus, abbiamo un SOC, abbiamo un T che lavora col SOC. Quindi insomma con tutte queste difese in campo ci viene da dire che l'attaccante deve essere per forza molto skillato con tecniche all'avanguardia che possa utilizzare delle delle C2 e delle payload custom per evadere IDR, XDR e non è così, non è sempre così, perché un anno e mezzo fa più o meno Specter Ops ha fatto una bellissima ricerca su un componente di Active Directory che è l'Active Directory Certificate Services ed è un componente che è diventato quasi da considerare tier zero secondo noi perché presenta delle problematiche di configurazione di cui si parla ancora troppo poco che sono veramente devastanti per l'escalation sul dominio. quindi da qui parte la provocazione i nostri dieci minuti per diventare domain admin e il protagonista di questa storia è proprio l'Active Directory Certificate Services L'Active Directory Certificate Services fa parte della grande famiglia di Active Directory e quella componente all'interno dell'Active Directory che rilascia tutto ciò che riguarda la firma digitale certificati e tramite questi certificati si garantisce all'utente il passaggio l'autenticazione l'autorizzazione per poter comunicare con tutte le funzionalità e i servizi offerti dall'Active Directory Ai fini di questo speech vogliamo identificare l'Active Directory Certificate Services l'ADCS come quel medico di base e quando volevamo balzare la scuola volevamo giocarci la scuola ci firmava le giustificazioni e quindi è proprio questo il ruolo di questa componente che se configurata in una maniera sbagliata può fornire un path molto pericoloso e non banale neanche da rimediare da pecciare da fixare next slide una misconfiguration dell'Active Directory Certificate Services può portare a questa a questa escalation è un escalation che ha in realtà tante varianti mi pare circa 8-9 varianti e sulla base della configurazione sulla base dello specifico parametro che viene configurato nella maniera sbagliata può portare a 8 diversi path sono 8 path molto comuni che passano spesso sotto banco nella configurazione dell'ambiente soprattutto perché di per sé non si tratta di una vulnerabilità si tratta semplicemente di come funziona questa componente è una componente che però sta dando modo appunto di sfruttare con grande facilità i path per diventare domain admin nei nostri team di Milano Bologna abbiamo un gruppo di offensive security di cui io e Alessandro facciamo parte e negli ultimi tempi sfruttando questo path riusciamo a ottenere ottimi risultati in brevissimo tempo non essendo intercettati dal SOC il SOC che ad oggi ha diversi playbook per poter contrastare queste tipologie di minacce ma essendo una minaccia che effettivamente è nata nell'ultimo anno non risulta sempre e spesso mappata all'interno dei playbook con cui il SOC è abituata ad agire quindi cara dobbiamo parlare adesso con Alessandro vedremo una piccola demo di un ambiente che abbiamo configurato appositamente per far capire di cosa stiamo parlando sarà uno schermo nero con scritte bianche quindi magari anche abbastanza accattivante è un piccolo ambiente di un piccolo ambiente di Active Directory con un domain controller su cui abbiamo installato alcuni template vulnerabili qui dimostreremo brevemente quali sono anche i tool principali che possono essere usati per identificare la vulnerabilità e per sfruttarla e lo faremo davvero in pochi minuti proprio per dimostrare che effettivamente parliamo di un attacco veramente breve e rapido da condurre ok forse un po' forte il volume ok quindi sfruttiamo questi minuti per cercare di capire le basi di questa tipologia di attacco allora abbiamo predisposto un piccolo domain controller con il servizio di certificate services attivo e a questo punto siamo in uno scenario in cui abbiamo ottenuto il primo accesso quindi diciamo i nostri colleghi del subappalto ci hanno dato l'accesso all'ambiente e siamo atterrati su una macchina Linux siamo riusciti a recuperare un paio di credenziali validi sul dominio sono delle credenziali di basso livello quindi diciamo per noi l'importante al momento è essere all'interno degli utenti autenticati questo è ciò che ci interessa esistono una pletora di tool ormai per fare l'enumeration di questo path proviamo a vedere assieme come fare l'enumeration in maniera veramente semplice del primo path di escalation quindi semplicemente scusate la demo io faccio su perché li ho già fatti tutti metto le mani avanti e che cosa andiamo a chiedere andiamo a chiedere alla CA quali sono i template vulnerabili perché li chiediamo vulnerabili perché questo tool che si chiama CertiPy per esempio fa già degli studi suoi dell'analisi sui parametri che recupera dalla configurazione della CA quindi è veramente straightforward l'obiettivo di questo talk non è essere bravi ma è far capire quanto si può essere scarsi con questo componente per arrivare a domain admin ok è successo qualcosa quindi il tool ci restituisce quelle che sono le Certification Authorities attive per la foresta in questo caso ne abbiamo una scopriamo ma lo sapevamo già insomma che il dominio è questo qua la CNAME la CA si chiama pvc-ca ma la cosa più interessante al di là di una vulnerabilità riscontrata sulla CA stessa che è web enrollment enabled ma io posso puntare meraviglioso ok quindi abbiamo il web enrollment enabled questo lo vedremo più avanti nel talk però adesso ci concentriamo su quello che è il primo path quindi guardiamo che c'è stato restituito la configurazione di un template che si chiama vulnerable admin qualcosa ci dice che potrebbe funzionare il nostro attacco quindi cosa ci interessa guardare sicuramente che sia abilitato quindi che sia sfruttabile per richiedere un certificato è così cosa possiamo fare poi con questo certificato possiamo fare una client authentication beh mi sembra proprio di sì questo è un parametro che va a definire che questo certificato è spendibile per autenticare un client e questo è molto importante poi abbiamo anche un altro flag molto molto importante che è questo qui è il roller supplier subject che significa che io posso andare a richiedere un certificato per un utente arbitrario quindi posso richiedere un certificato per qualcun altro e questo è molto interessante perché se uniamo i puntini e andiamo a guardare le permission di questo certificato vediamo che gli enrollment rights ok sono definiti qua quindi chi può fare enrollment abbiamo gli administratori i domain admin gli enterprise admin e gli utenti autenticati e questa configurazione noi l'abbiamo vista esattamente uguale su diversi clienti quindi non è una cosa fatta apposta per renderla semplice qui è una cosa che purtroppo succede quindi che cosa possiamo fare avete un guess di cosa andremo a fare andiamo a chiedere un certificato andiamo a chiedere un certificato la nostra utenza è straccione simpaticamente per dire che non abbiamo nessun privilegio sul dominio andiamo a chiedere il certificato che si chiama vulnerable admin alla CA che si chiama pvc e andiamo a chiederlo per qualcun altro quindi quel flag che abbiamo visto prima lo trovate lì al parametro upn quindi administrator at bla 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 allora tipicamente dovremmo fare per esempio l'enumeration dei domain admin se volessimo essere molto puliti sceglierne magari uno particolare di una società esterna per evitare di essere sgamati se fosse un red team ma oggi assumiamo che almeno un administrator ci sia come nella maggior parte dei casi e andiamo a richiedere il nostro bellissimo certificato in questo momento siamo domain admin perché abbiamo un certificato rilasciato per l'administrator del dominio e con questo certificato semplicemente andiamo a richiederci un ticket da Kerberos ecco tolte le chiacchiere questo attacco dura 5 minuti 7 minuti allora noi non siamo stufi di sfruttare questa vulnerabilità perché un pentester che diventa domain admin non può mai essere triste di questo però il messaggio è facciamoci attenzione a questo ok domande silenzio senso va bene ok se vogliamo possiamo riprendere con le slide allora scusate stavo andando ad abbeverarmi ma voglio il controllo eccoci quindi questo è quello che abbiamo visto quindi abbiamo visto come fare a sfruttare l'attacco è veramente un attacco di pochi minuti è un attacco che richiede pochi tool è uno dei primi check che ultimamente stiamo stiamo lanciando attivando durante gli internal pen test ed è un check che ci permette di raggiungere veramente in breve tempo quella la prima flag la più importante quindi quella di atterrare appunto e di assumere i privilegi di domain admin partendo da una da un'utenza poco privilegiata adesso nelle prossime slide sempre con Alessandro andremo a ripercorrere uno scenario specifico che abbiamo sfruttato in uno degli ultimi nostri incarichi è uno scenario abbastanza particolare perché sì effettivamente l'attacco è possibile farlo in pochi minuti e però bisogna in certi casi anche arrivare a poter interagire con il domain controller ad avere i privilegi adeguati non sempre si parte con un'utenza all'interno di un di un ambiente e non tutti gli otto path varianti di questa specifica vulnerabilità permettono di effettuare le operazioni con tanta facilità quindi in questo specifico ambiente siamo riusciti a concatenare una serie di misconfiguration di vulnerabilità di errori di manutenzione e siamo riusciti a ottenere i stessi privilegi con un percorso abbastanza interessante ok quindi cominciamo subito con un fallimento per partire bene riusciamo a trovare un un'arbitrary file upload su una macchina all'interno del delle subnet definite in scopo dal cliente tutto bello molto interessante era un venerdì sera quindi l'orario perfetto anche per disturbare il soc e i referenti giustamente che succede proviamo a caricare il nostro fantastico pippo.spx che altro non era che una webshell un pochettino modificata per diciamo eludere i controlli più base di sicurezza togliendo magari quindi qualche signature o qualche nome di variabile ma ad ogni modo siamo stati tanati subito quindi scopriamo che c'è un edr scopriamo che il cliente ci manda una bellissima mail blocca la macchina segregata ci chiede siete veramente voi sì vabbè e niente e si va a casa weekend parte malissimo quindi che facciamo noi di dopo la prima idea è quella abbiamo l'idr abbiamo un soc che funziona molto bene abbiamo delle verifiche anche automatiche e delle contromisure automatiche che vengono prese per cui proviamo a cercare una macchina che per cui l'idr non sia compatibile troviamo un po' di windows 2003 tanto le avete tutti non ridete per piacere che insomma ok su questa macchina che facciamo troviamo un bellissimo side scope con la possibilità di leggere un file arbitrario e andiamo semplicemente a scusate qua proprio pigrissimamente utilizziamo un exploit già pronto di metasploit per andare a tirar giù sum e system che sono due hive e in questo modo riusciamo a ottenere localmente gli hash di un amministratore locale proviamo ad ampare gli hash quindi credenziali sulla macchina facendo login remotamente e purtroppo però non troviamo nulla del dominio che ci interessa quindi decidiamo di riavviare un paio di servizi e riusciamo ad ottenere poi scusate mi sono perso un pezzo perché in tutto questo scusate c'era un antivirus almeno l'antivirus c'era sulla 2003 quindi quello che abbiamo fatto è semplicemente andare a cercare quelli che fossero le whitelist essendo local administrator sul registro per il SEP in questo modo riusciamo a evitare un flag istantaneo ci piazziamo in una di queste directory e da qui in avanti questa macchina diventa la nostra base per il penetration test qui restartiamo i servizi di cui parlavo prima e riusciamo ad ottenere poi i tre credenziali dominio il dominio è quello che ci interessa effettivamente quindi da qui da qui parte diciamo la ciccia parte la ciccia della DCS che abbiamo visto prima e parte sfruttando quella con la dicitura ESC8 che abbiamo visto nel template precedente sulla SCA perché andiamo a sfruttare una vulnerabilità diversa allora qua la prima disavventura del penetration test purtroppo è una foresta che ha diversi domini con delle thrust non bidirezionali quindi Certipy a un certo punto mostra i suoi limiti crascia ci restituisce semplicemente un output JSON con un'ottantina di template da verificare a mano però noi abbiamo voglia quindi ci mettiamo a guardarli ed effettivamente vediamo che c'è una CA che è vulnerabile all'ESC8 l'ESC8 cosa significa? Significa che la CA permette il web enrollment cioè è possibile richiedere un certificato tramite una pagina HTTP c'è un altro puntino da unire perché troviamo un template tra tutti questi che permette l'autenticazione da parte dei domain controller questo unito al problema di prima è piuttosto significativo perché ci permette di eventualmente richiedere un certificato impersonando un domain controller se però c'è qualcuno qualche domain controller è vulnerabile a Petit Potom Petit Potom per quello che ci interessa è una vulnerabilità che permette di andare a richiedere una macchina Windows di andare da un'altra macchina quindi di effettuare una connessione verso un'altra macchina quindi proviamo a unire i puntini tiriamo su un NTLM relay quindi un componente che probabilmente lo sapete tutti ma è un componente che permette di ricevere una connessione NTLM e ributtarla verso un altro host chiediamo a Petit Potom chiediamo tramite Petit Potom un domain controller di arrivare sulla nostra macchina con relay e tramite queste due cose e una versione particolare modificata di un tool basato su un packet andiamo effettivamente a richiedere un certificato in persona al domain controller a questo punto otteniamo un bellissimo certificato otteniamo un bellissimo ticket Kerberos impersonando il domain controller e dopo un domain controller facciamo un secret stamp a questo punto siamo domain admin perché abbiamo gli hash di una valanga di amministratori del dominio quindi in tutto questo il SOC ha visto qualcosa allora piccola premessa c'erano dei meme in questa presentazione ma per le nostre policy non siamo riusciti a includerli quindi se volete vedere il meme c'è il QR code ma devo quasi superato no non è stato visto nulla come avete capito purtroppo diciamo noi perché è un escalation veramente veloce è veramente efficace perché come diceva Francesco prima la stiamo provando praticamente come primo approccio a tutti i penetration test con grande successo da tanto tempo quindi diciamo perché potrebbe essere successo che non siamo stati individuati sicuramente è un vettore nuovo quindi magari non esistono ancora i playbook il SOC non è abituato e poi c'è un problema magari più tecnico perché non è immediato cioè non è facile avere tutte le informazioni che sono relative alla richiesta di un certificato perché quando noi andiamo a chiedere un certificato ad ADCS ADCS gentilmente fa quello che gli chiediamo se gli piace ma l'evento che viene registrato a livello di Windows non contiene le informazioni quindi i metadati circa cosa abbiamo richiesto da chi quando eccetera queste informazioni vanno poi estratte andandole a richiedere dalla CA quindi questo è un motivo di complessità probabilmente se vi interessano comunque questi temi oltre a magari venirci a trovare allo stand la ricerca ovviamente pubblica di Specter Ops ed è veramente fatta bene e contiene anche una parte in cui vengono discusse le parti diciamo rilevazione e risposta quindi abbiamo visto come sfruttare l'attacco abbiamo visto come è semplice tante volte farlo e gli appigli che si possono sfruttare per arrivare a diventare domain admin sono di fatto situazioni che si vedono spessissimo il Windows 2003 i certificati gli ADCS i template non configurati nella maniera corretta e quindi nonostante questa vulnerabilità lo studio di questa vulnerabilità la ricerca di questa vulnerabilità sia già nota da diversi anni abbiamo avuto evidenza abbiamo tuttora evidenza che i SOC i team di difesa non riescono a rilevare questo attacco e gli exploitation lato nostro perlomeno non non calano non diminuiscono è una è una vulnerabilità una misconfiguration molto facile da sfruttare abbiamo visto i pochi minuti necessari per enumerare il sistema identificare la vulnerabilità la misconfiguration e sfruttarla richiedendo un ticket in breve tempo e ci permette di passare inosservati il SOC non ha i playbook adatti non è aggiornata e non ha tante volte non è in grado di identificare per questi motivi l'intrusione e si diventa domain admin diventare domain admin vuol dire poter vedere qualsiasi cosa all'interno dell'ambiente vuol dire poter andare sul desktop del tuo vicino di banco può essere andare sul desktop del CEO insomma poter fare qualsiasi cosa o deployare ransom o deployare ransom come abbiamo visto nella partita once you are a domain admin you are forever domain admin quindi il suggerimento finale un po' per anche racchiudere qualche provocazione che abbiamo lanciato è andare appunto a verificare questa questa componente che è facilmente facilmente sfruttabile e di non fare affidamento cieco sulle tecnologie di sicurezza abbiamo visto che siamo riusciti a bypassare in qualche modo le tecnologie di antivirus abbiamo rapidamente bypassato qualche funzionalità dell'EDR tecniche di evasion che stanno diventando sempre più comuni anche queste e molto semplici da sfruttare una volta che naturalmente si ha un accesso a una macchina dell'ambiente interno e quindi la prossima attività di assessment speriamo di avermi dato un motivo in più per controllare questa componente grazie grazie